C'è una crisi della democrazia anche all'interno della CGL, a dichiararlo è segretario nazionale della FIOM, Maurizio Landini, a Firenze per partecipare all'attivo dei delegati FIOM a Toscani in vista del congresso nazionale del sindacato che si terrà a Rimini nel prossimo maggio. Sul futuro e sul ruolo della CGL la posizione della FIOM è chiarissima, bisogna cambiare passo, affrontare la crisi con energia maggiore, rimettere le mani sul sistema delle pensioni e soprattutto ritirare la firma dal testo unico sulla rappresentanza sottoscritto il 10 gennaio con Cisle Will e Confindustria. Anche perché con gli ultimi avvenimenti, penso in particolare all'accordo sulla rappresentanza che non viene sottoposto alla consultazione degli iscritti, credo che ci sia una crisi della democrazia all'interno della stessa CGL che va affrontata perché per il futuro di qualsiasi organizzazione io credo che la democrazia e la partecipazione, il diritto di chi è iscritto di conoscere e di poter decidere su tutto sia un punto decisivo. Il congresso regionale della CGL si terrà a Piombino il 18 e 19 marzo.